A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale io vorrei fare un appello agli elettori. Vorrei dire loro, guardate che questo è il momento ultimo per decidere se seguire il vecchio o approdare al nuovo. Che è un porto sicuro, un porto dove si cambia, dove si ha la possibilità di costruire una regione nuova. Lontana dai benefici per pochi, lontana dalle consorterie, dalle affiliazioni. Si cura nella possibilità di offrire a tutti noi una speranza realizzata attraverso l'impegno di tutti noi. Lo stesso impegno che tanti militanti stanno utilizzando in queste settimane, in questi giorni, in queste ore per consentire a tutti noi di approdare al cambiamento. E io ringrazio questi militanti, ma ringrazio tutti i cittadini che avranno voglia, nelle prossime ore, da qua fino alla fine del momento del voto, di impegnarsi in ogni modo possibile, chiamando i loro amici, parlando fra di essi, rappresentando le ragioni che ci spingono oggi a pretendere una nuova regione Lombardia. Grazie.